Trova una posizione comoda e comincia a rilassarti, rilassati dolcemente e lasciati andare il suono delle mie parole e comodamente rilassati, concediti questa pausa, questo silenzio, questa pace e lasciati andare profondamente, porta la tua attenzione al respiro ed inspira lentamente attraverso le tue narici, molto lentamente e fai fluire l'aria molto lentamente, percependola in tutto il tuo corpo, delicatamente. Visualizza una luce bianca che entra delicatamente attraverso le tue narici, rendendo il tuo corpo luminoso. Ora comincia a rilassare ogni parte del tuo corpo, rilassa il tuo capo, le tue guance, le tue labbra ed i tuoi occhi, che sentirai sempre più pesanti, sempre più pesanti e ti lascerai andare sempre più in profondità, sempre più in profondità. Rilassa ora il tuo collo, tutti i muscoli del tuo collo e molto lentamente, molto lentamente, rilassa le tue spalle, molto lentamente e sentile scendere lentamente, poi porta la tua attenzione al torace e rilassalo, sentilo sempre più rilassato e fai così con il tuo addome, rilassalo sempre di più, lo sentirai sempre più rilassato sempre più rilassato, sempre più rilassato e che accompagna il fluire del tuo respiro. rilassa ora le tue braccia sempre di più, fino ad arrivare ai tuoi gomiti e così giù, fino ad arrivare alla punta delle dita delle tue mani, che sentirai sempre più rilassate, sempre più rilassate. porta ora la tua attenzione al bacino e sentilo immerso di luce e rilassalo sempre di più, senti il tuo bacino sempre più rilassato, sempre più rilassato e così scendi sempre più in profondità, rilassando le tue gambe fino alle ginocchia e lentamente, molto lentamente, comincia a rilassare dalle tue gambe fino ad aggiungere ai piedi e dalle punte delle dita dei tuoi piedi e senti il tuo corpo sempre più rilassato sempre più rilassato sempre più rilassato. ora immagina di avvicinarti ad una stanza e lì di fronte a te vi è una porta con scritto stanza dei rapporti d'amore, osserva questa porta, percepisci nel profumo la forma, il colore e ora ti chiedo di aprire la porta, di aprire la porta di questa stanza, apri questa porta, spalanca completamente questa porta, ora, ora ti chiedo di entrare in questa stanza, compiendo tre passi, partendo con il tuo piede destro e comincia ad osservarne i colori, a percepirne i profumi e la vibrazione luminosa in te, continua ad osservare questa stanza, continua a percepirne il suo profumo, continua a visualizzare liberamente i suoi colori, liberamente e continua a percepire la vibrazione luminosa in te. Ora ti chiedo di sussurrare con le tue labbra le mie parole, chiedo l'intervento dell'angelo Ariel e di tutto il mondo celeste qui riunito. affinché si sciolgano tutti i legami carnici stabiliti con voti e compromesse, fatti in questa ed in altre vite, con partners di questa ed altre vite, chiedo si sciolgano completamente. ora, chiedo che tutto questo si compia a partire da ora, da adesso, per sempre e per l'eternità. chiedo che tutto questo si compia nel nome della vittoria. chiedo che tutto questo si compia nel nome della vittoria. ora, ti chiedo di osservare nuovamente i colori della stanza, di percepire i suoi profumi e le vibrazioni luminose in te. ed ora, ti chiedo di sussurrare con le tue labbra una tua libera intenzione. fallo liberamente, ora. ora, ti chiedo di uscire lentamente da questa stanza e di lasciare aperta la porta. osserva la stanza dell'esterno. da ora, tutto comincia a cambiare. tu cominci a cambiare. tu cambi. i migliori, giorno per giorno, sempre di più. ogni giorno, sempre di più. ora, comincerò a contare a ritroso a partire da dieci. e tu riprenderai un normale stato di veglia. e ti sentirai felice. e ti scoprirai ogni giorno, sempre più felice. ogni giorno, sempre di più. uno, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. одно. uno. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.